La battaglia per i referendum Questa è una delle tante notizie, cade un aereo e quindi per una settimana cadono solo aerei, poi scoppia una guerra e qui separano solamente le guerre, poi c'è Sanremo e qui separano solamente le Sanremo. Fare in maniera che questo qua sia un impegno continuo e che non sia soltanto l'impegno contro il nucleare, perché l'impegno contro il nucleare è anche l'impegno per energie rinnovabili, e l'impegno per un cibo che sia oltre che sano, anche giusto, per la scuola pubblica e molte altre cose, per un progetto differente, per una prospettiva, se vuoi anche in ideologia, è differente. E poi andrei a votare per referendum, anche se non ci sarà, quel giorno andiamo a votare lo stesso, pure se siamo in 20, pure se non c'è più manco il referendum, andarci potrebbe essere un'alternativa.